L'1 e 2 minuti, buonasera e benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ribadisce la sua piena fiducia nel Ministro della Giustizia Nordio dopo le polemiche nei giorni scorsi sulle intercettazioni e sulla presa di posizione del guardasigilli su IPM antimafia. In settimana vertice per definire il cronoprogramma delle iniziative necessarie a migliorare lo stato della giustizia italiana. Negli ultimi giorni il Ministro della Giustizia è finito nel mirino di tutti i partiti di opposizione, tranne il terzo polo e anche di parte della maggioranza, per il suo attacco ai IPM antimafia e l'annunciata stretta sulle intercettazioni, al punto che alcuni avevano anche ipotizzato dissidi tra Nordio e Giorgia Meloni, ma una nota di Palazzocchigi prova a blindare il Ministro e a bloccare le polemiche. Nel testo si legge che la Premier ribadisce la sua piena fiducia nel guardasigilli. Inoltre la nota annuncia che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra Meloni e il Ministro. Questa nota arriva proprio mentre Giorgia Meloni vuole in Algeria per l'attuazione del piano Mattei, che punta all'indipendenza del nostro paese per i rifornimenti di gas. Ieri lo stesso Nordio è intervenuto per sottolineare la sua perfetta sintonia con la Premier, per escludere qualsiasi ipotesi di dimissioni. La spinosa questione delle intercettazioni comunque continua a produrre divergenze, anche nella maggioranza. Per Salvini la riforma della giustizia è una priorità e deve essere fatta con gli avvocati e i magistrati, non contro qualcuno. Ad agitare la maggioranza poi, oltre alla questione giustizia, c'è sempre il caso dei balneari. Fratelli d'Italia, a differenza di Lega e Forza Italia, non ha segnalato emendamenti al Decreto 1000 Proroga in discussione in Senato. Il disegno di legge e concorrenza varato dal governo Draghi prevede la scadenza delle attuali concessioni il 31 dicembre di quest'anno. Gli emendamenti di Forza Italia e Lega invece puntano a prorogare il termine. Sull'Ucraina e sul sostegno a Kiev si rafforza l'asse franco-tedesco, ma restano divergenze sulle forniture di armi. Il presidente Macron, ricevendo il cancelliere Scholz, non ha escluso l'invio di carri armati Leclerc a Kiev, mentre la Germania ha sciolto il nodo sulla consegna dei Leopard. E Mosca rinnova l'avvertimento sul rischio di un disastro globale se verranno inviate l'Ucraina nuovi armamenti. La consegna di nuove armi a Kiev porterà ad una catastrofe globale. La minaccia arriva da Mosca per bocca del presidente della Duma Volodin ed è rivolta all'Occidente. Nel giorno in cui Francia e Germania assicurano che l'impegno dell'Europa al fianco di Kiev contro l'invasione russa continuerà per tutto il tempo necessario. Precisazione quanto mai importante da parte del presidente francese Emmanuel Macron e del cancelliere Olaf Scholz in visita a Parigi per rafforzare l'asse franco-tedesco nel sessantesimo anniversario del trattato di riconciliazione. E dopo le spaccature del gruppo di contatto a Rammstein sull'invio di tank e di armi pesanti in Ucraina con il rifiuto della Germania di fornire carri armati tedeschi Leopard ritenuti da Kiev necessari per dare una svolta al conflitto. Il Pentagono in vista della nuova offensiva russa in primavera sollecita gli alleati a consegnare al più presto le armi promesse a Zelensky. E alla richiesta di Varsavia di autorizzare l'invio dei Leopard in possesso della Polonia Questa sera il ministro degli esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che Berlino è pronta a dare l'ok. Anche Macron non esclude l'invio in Ucraina di carri armati francesi Leclerc. Tra i paesi convinti che con armi più potenti gli ucraini possono vincere la guerra c'è la Gran Bretagna. L'ex premier inglese Boris Johnson si è arrecato oggi in Ucraina. Questo ha detto è il momento di dare tutti gli strumenti necessari per finire il lavoro. Prima Putin fallisce, meglio è per l'Ucraina e per il mondo intero. E come abbiamo sentito Giorgia Meloni è ad Algeri per la sua prima missione ufficiale nel paese nordafricano mentre il ministro degli esteri italiani è al Cairo. Energia e stabilizzazione della Livia al centro delle missioni in Africa del governo a pochi giorni dallo sciopero dei benzinai che dicono no alla revoca chiesta da Urso e confermano la serrata del 25 e 26 di gennaio. Per le associazioni di categoria le parole del ministro dimostrano la confusione del governo. Gli inquirenti continuano a vagliare ogni dettaglio delle carte della vita di Matteo Messina Denaro. Emerge che a Campobello di Mazzara, paese in cui ha trascorso la latitanza, non si facesse chiamare Andrea Bonafede ma usasse un altro nome. E da Mazzaro del Vallo arrivano oggi le parole durissime del Vescovo Emerito. Chissà parli, non possiamo avere troppa pietà. Messina Denaro è uno che ha ammazzato tanto. A una settimana dall'arresto di Matteo Messina Denaro gli investigatori cercano di ricostruire gli ultimi periodi della sua trentennale latitanza. Il boss negli ultimi tempi usava almeno due identità. Per le cure mediche, il nome di copertura di Andrea Bonafede, in paese invece lo conoscevano come Francesco. Andava al bar al ristorante, aveva acquistato personalmente una macchina, la Giulietta Nera, trovata ieri in un cortile vicino ad uno dei suoi covi. Sarebbe stato qui nel suo feudo di Campobello di Mazzara nel Trapanese da almeno due anni, muovendosi alla luce del sole, spostandosi tra gli appartamenti rifugio che sono stati trovati dopo la sua cattura, almeno tre covi, nel raggio di pochi metri. Nei suoi rifugi non sarebbero stati trovati documenti scottanti o i libri mastri di Cosa Nostra, ma parecchi gadget riferiti alla mafia, sul frigo, una calamita con la scritta «Il padrino sono io». Dure le parole del Vescovo Emerito, della diocesi di Mazzara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero. Non è una persona per cui possiamo avere troppa pietà. È uno che ha ammazzato tanto, ha sparso tanto sangue, ha ucciso tanti innocenti, ha detto riferendosi al boss. Non credo possa pentirsi che abbia voglia di parlare. Chiudiamo con il calcio, diciannovesima giornata in Serie A. Oggi altri quattro incontri, importante vittoria della Roma alla Spezia. Stasera è tornata in campo la Juventus dopo la stangata della FIGICI. I bianconeri pareggiano 3-3 con l'Atalanta. Ci si attendeva dalla Juventus una reazione al venerdì nero della penalizzazione. Contro l'Atalanta è arrivato un 3-3 spettacolare ma poco utile per la classifica. Gara subito in salita per i bianconeri trafitti dopo neanche cinque minuti dal destro di Lucman, pescato in area da Bogat, poco reattivo sulla traiettoria e il portiere Cesli. Già prima della mezz'ora la Juve rimette le cose a posto con il rigore di Di Maria, concesso per fallo di Ederson su Fagioli. Poi l'argentino innesca di tacco sempre Fagioli per il cross raccolto al volo da Milik del sorpasso Juventino. L'ex Napoli sale a 44 reti diventando il polacco più prolifico della Serie A. Ma in avvio di ripresa si torna in parità, errore di McKennie, incursione di Mele che va in porta dopo lo scambio con Lucman. Ma è proprio la grande serata dell'attaccante nigeriano, a segno di testa al 52esimo per la rete del Tris Nerazzurro. Juventus che allora stringe i denti e pareggia con la punizione di Danilo, su tocco dell'onnipresente Di Maria. Per la Roma il dopo Zaniolo comincia con il successo 2-0 in casa dello Spezia. I giallorossi passano al 45esimo sugli sviluppi di un'azione iniziata dal Sharawi e conclusa dallo stesso Faraone dopo un contropiede bruciante di Dybala, ancora una volta presente anche come uomo assist. Al 49esimo in evidenza Ebram, sempre innescato da Dybala, spietato nello sfruttare una disattenzione di Esposito, eludere la guardia di Caldara e beffare il portiere Drongovski. 1-1 tra Monza e Sassuolo. Il tocco a botta sicura di Capitano Ferrari regala ai Nero Verdi l'illusione di un ritorno alla vittoria dopo 5 sconfitte consecutive. Ci pensa però Caprari con un'azione personale ed un destro giro a regalare un punto importante al Monza. In coda alla classifica, la Sampdoria, dopo un commovente omaggio a Vialli, perde in casa 1-0 con l'Udinese. Nessuna squadra aveva chiuso il girone d'andata con appena 8 reti segnate. Per i bianconeri firolani decide lo spunto di Esibue sugli sviluppi di un errore in difesa del Doriano Wings. È davvero tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi. Buonanotte.